Permutazione Ora faremo una permutazione, quindi uno spostamento in avanti del mio disegno ritmico, uno spostamento di un sedicesimo per volta, quindi avrò l'accento sul primo sedicesimo, poi l'accento sul secondo, poi sul terzo e poi sul quarto. Il tutto con dei paradide, quindi primo, secondo, terzo e quarto paradide. Questi paradide li eseguirò tra charlestone rullante e tengo la cassa come metronomo. Quindi 1, 2, 3, 4 Ok? 3, 4 Ok? 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 Ok?